Voleva anche il suo gol, signori, il timbro indelebile di CR7, andiamo sul 3-0, ormai la partita finita, lo Spezia era ormai tutto in avanti, riversato per cercare di fare il 2-1 e arriva, oltretutto su bella azione di Bentancur, bisogna dirlo, oggi stiamo vedendo delle cose che generalmente non vediamo mai, arriva il gol di CR7, come che sembra, come sempre un gol semplice, ma in realtà semplice non è mai. Quindi questo calciatore straordinario che è Cristiano Ronaldo spinge sempre, spinge sempre, lui vuole sempre fare gol e alla fine poi dopo riesce a farli, riesce a farli e arriva a 20 gol stagionali, capocannoniere, tanta tanta roba, ci vediamo dopo per la fine della partita se non ci sono aggiornamenti, a dopo, CR7, terzo gol, 3-0 per noi.